10 cose che può fare Facebook Ads per un'agenzia immobiliare Ciao, io sono Francesco Berzani, il fondatore di Web Marketing Immobiliare ed in questo video vedremo cosa puoi ottenere, cosa può ottenere un'agenzia immobiliare grazie all'uso intelligente di Facebook Ads numero uno, la prima cosa che puoi ottenere è una garanzia di visibilità che cosa voglio dire con garanzia di visibilità? se ti affidi unicamente alla benevolenza di Facebook e al traffico che ti offre gratuitamente diciamo che non parti molto bene, perché? perché sappiamo tutti che Facebook oramai è diventato un mezzo a pagamento come si dice in gergo tecnico un mezzo pay to play devi mettere i soldi per giocare la partita esattamente come si faceva con i videogiochi devi mettere il gettone o la 200 lire o la 100 lire ancora prima quindi se vuoi sfruttare a pieno la piattaforma non ti dico che non facendo pubblicità assolutamente non puoi ottenere risultati ma sicuramente è tutto più lento e c'è un problema di fondo se spingi sull'acceleratore dei contenuti, della creazione dei contenuti e quindi ti stai impegnando nel creare dei video, nel creare dei post, nel mettere delle immagini curate e non stai investendo in Facebook Ads quindi non stai fondamentalmente spingendo quel post facendo raggiungere quantomeno la tua base fan perché normalmente considera che nei casi migliori arrivi a un 10, 15, 20% della tua base fan nei casi migliori altrimenti ci aggiriamo anche intorno a cifre da un numero 1%, 2%, 3% capisci che è poco quindi non pensare che se hai mille fan allora sei a posto perché ogni post lo vedranno mille persone non è assolutamente così e te ne rendi conto se vai a vedere le statistiche che hai sotto ogni post vedi quante persone poi hanno visto effettivamente hanno interagito e hanno poi successivamente interagito ovviamente chi interagisce ancora meno rispetto a chi visualizza il post quindi se vuoi sfruttare a pieno i contenuti che crei se vuoi sfruttare a pieno la piattaforma devi necessariamente investire anche in ads questo non vuol dire che devi spendere chissà quali cifre anche piccole cifre anche spingere un post con 10 euro sicuramente ti può far raggiungere molte più persone e non solo i fan ti può far raggiungere anche quelli che ancora magari non ti conoscevano neanche quindi sicuramente garanzia di visibilità è un punto a favore un vantaggio che puoi ottenere è una cosa che puoi fare grazie a facebook ads 2 alimentare il tuo funnel puoi avere diversi tipi di funnel abbiamo parlato di recente qui ne parliamo anzi ultimamente molto più spesso perché il funnel è fondamentale è fondamentale se si vogliono ottenere determinati risultati se lo si vuole fare in modo costante quindi cerca sul mio canale altri video che parlano soprattutto di funnel di acquisizione in carica ad ogni modo si tratti di un funnel di acquisizione in carica si tratti di un funnel per la vendita o di altri obiettivi il facebook è ottimo per fare questo passo perché facebook fondamentalmente ti permette di metterti in contatto con persone che non ti conoscevano ancora che però potenzialmente sono interessate a lavorare con te sono interessate ad acquistare un immobile sono interessate a vendere il proprio immobile quindi facebook ads ti permette di fare questa cosa è una cosa che di recente in uno degli ultimi video ho parlato proprio dell'importanza del traffico quindi io posso creare un sito eccezionale posso avere un funnel eccezionale strutturato bene ma se non ho traffico non ottengo risultati perché un funnel, un sito che cosa lavorano? qual è la materia prima che fa funzionare questi strumenti? è il traffico è la persona che arriva sul sito e quindi se non hai persone che arriva sul sito quella macchina ha bisogno di alimentarsi esattamente come una macchina un'automobile ha bisogno di benzina o di gasolio per camminare o di elettricità se è un'auto elettrica senza questo la macchina non si muove esattamente come un sito web come un funnel e così via quindi sicuramente è un ottimo mezzo per alimentare un funnel anche perché è quello diciamo rispetto a Google che ti permette di intercettare la domanda latente appunto persone che non ti conoscono ma potenzialmente potrebbero essere interessate o che comunque magari non sono consapevoli al momento che c'è una soluzione al loro problema non ci stanno pensando ma quel problema ce l'hanno ecco Facebook è l'ideale per catturare questo tipo questo tipo di persone numero 3 far crescere la tua base fan della tua pagina Facebook i tuoi followers attenzione avrai sentito dire mille volte probabilmente anche da me che inseguire i fan i numeri le cosiddette vanity metrics i fan i like spesso ti può portare fuori strada ma è anche vero che una base fan è necessaria quindi non è sicuramente l'obiettivo primario ma soprattutto se hai appena iniziato sicuramente hai pochi fan e quindi hai bisogno di avere una base perché una persona che vede una pagina con 10 like 10 follower si fa due domande e pensa che sia insomma non sia potrebbe essere una fregatura o potrebbe essere un'azienda poco affidabile quindi in questo caso l'occhio vuole la sua parte non ti dico di andarli a comprare follower indiani no assolutamente no ma grazie a Facebook Ads tu puoi ad esempio farlo in modo diretto quindi invitando le persone a mettere like alla tua pagina o meglio ancora in modo indiretto cioè sponsorizzi dei contenuti dei tuoi post che possono essere di vario formato per farli vedere ad esempio le persone che vivono nella tua città nella tua zona di competenza in questo modo ci saranno delle persone che metteranno interagiranno con la tua inserzione con il tuo contenuto metteranno like e tu quelle persone potrai invitarle a mettere hanno già messo like sul post potrai invitarle a mettere like sulla pagina in questo caso che cosa stai facendo stai costruendo una base fan di persone che hanno dimostrato un interesse più forte rispetto a quello che ti segue semplicemente direttamente perché hanno prima seguito diciamo apprezzato un tuo contenuto e di conseguenza poi hanno messo anche like alla tua pagina questo è un modo poi lo puoi farlo in modo diretto all'inizio sicuramente hai bisogno di usare tutte e due le strategie perché appunto hai bisogno di una base poi magari abbandoni questo tipo di campagna su like ma soprattutto all'inizio ne hai bisogno numero 4 ed è collegato al punto precedente alimentare la riprova sociale quindi che vuol dire cos'è la riprova sociale le persone sono influenzate da quello che fanno le altre persone classico esempio ho due ristoranti davanti a me un ristorante è pieno magari con la fila fuori ed un ristorante è vuoto non conosco la zona non so nulla dove entro probabilmente il ragionamento che faccio è se quello è pieno perché è migliore perché si mangia bene se quello è vuoto probabilmente non si mangia bene o avrà chissà che altro tipo di problemi magari mi mettono gli scarafaggi dentro o le mosche ci trovo le mosche dentro i piatti questo istintivamente è questo che ci viene da ragionare ma il ragionamento da fare istintivamente non è un ragionamento ma poi anche ragionandoci arriviamo a questa conclusione è normale quindi ecco perché ad esempio avere una pagina con una base follower è importante avere una pagina con una buona interazione le persone interagiscono o meglio ancora avere una pagina con delle recensioni queste sono fondamentali per la riprova sociale aumentano la fiducia nei confronti di quelle persone che ancora non ti conoscono per osmosi nel senso l'alimenta perché altre persone già si sono fidate di te quindi hanno una prova che qualcuno si è già fidato di te che qualcuno già ti apprezza ecco questo è un elemento che online serve oltretutto la pagina facebook è un ottimo punto di raccolta per le recensioni perché le rende credibili perché dietro a quella recensione c'è un profilo facebook reale c'è un volto c'è un nome un cognome quindi difficilmente ti viene da pensare che quelle recensioni siano false come uno potrebbe fare sul proprio sito può mettere qualsiasi cosa firmare potrebbe fare qualsiasi cosa su facebook no deve essere esattamente devono essere gli altri a farti a farti la recensione quindi questo anche è un punto a favore che ti può aiutare per crescere su facebook e sfruttarlo al meglio 5 ti permette di aumentare gli incarichi di vendita lo puoi fare diciamo in diversi modi un modo è quello di creare contenuti che dimostrano la tua capacità di aiutare i proprietari di casa a vendere casa con la massima soddisfazione e questo lo puoi fare in vari modi puoi pubblicare dei casi studio puoi raccontare degli episodi puoi pubblicare delle testimonianze dei tuoi clienti puoi riportare delle recensioni e puoi fare degli inviti diretti quindi chiedere alle persone magari di entrare in contatto con te per avere un primo colloquio una valutazione del proprio immobile un altro modo è quello sicuramente più veloce soprattutto se deleghi questa cosa ad una agenzia che si occupa quindi di social media marketing è fare delle sponsorizzate quindi la strada dei contenuti sicuramente è più impegnativa quindi richiede il lavoro da parte tua del tuo staff nel creare questi contenuti e quindi non è che ogni giorno puoi postare lo stesso contenuto ok però con la pubblicità praticamente deleghi questo compito o potresti anche occupartene in prima persona ma come funziona tu crei un'inserzione una o più inserzioni le crei una volta diciamo anche se poi periodicamente bisognerà rinfrescare le creatività ma lasciamo non entriamo nei dettagli crei questa inserzione e questa inserzione viene riproposta da facebook senza che tu faccia più nulla quindi è un'inserzione che ad esempio parla al proprietario e gli propone un contatto con te per una valutazione dell'immobile oppure gli propone un contenuto guida utile per sapere come vendere casa sapere come presentare l'immobile sono tante diciamo le esche che si possono utilizzare insomma un'informazione o alcune informazioni le impacchetti di modo che attiri il proprietario quindi parli di cose che a lui interessano e quindi lo inviti in qualche modo a mettersi in contatto con te o scrivendoti su messenger piuttosto che compilando un form sul tuo sito piuttosto che consumando un contenuto gratuito che parla appunto di tematiche interessanti per il venditore è molto potente facebook in questo perché sfruttando questa strada diciamo che ti levi tutto il discorso della creazione di contenuti del piano editoriale che è un lavoro diciamo abbastanza impegnativo quantomeno all'inizio poi magari riesci ad andare ad una velocità di crociera senza avere troppi sbattimenti ma è un lavoro costante quello di creare contenuti mentre in questo modo facendo gestire o occupando tu in prima persona delle inserzioni le inserzioni non hanno bisogno di essere rinfrescate ogni giorno come dei post che dovresti creare magari un'inserzione ti può durare dei mesi può andare avanti quindi può funzionare per mesi e l'unico lavoro che tu devi andare a fare ovviamente è quello di rispondere poi ai contatti che hai a proposito se ti interessa delegare questo questa attività di marketing per la tua agenzia in descrizione te lo anticipo adesso trovi un link che ti permette di compilare un breve questionario e poi eventualmente metterti in contatto perché facciamo comunque una selezione metterti in contatto con un consulente un mio consulente commerciale che analizzerà la tua situazione e vedrà se e come ti possiamo aiutare in questo quindi trovi il link in descrizione ma andiamo avanti e andiamo al punto numero 6 aumentare le richieste degli acquirenti quindi ovviamente le case non vanno solo acquisite vanno anche vendute e anche se diciamo l'acquisizione se l'hai fatta bene ti spiana la strada per la vendita lo sappiamo certamente una promozione lavora in due in due diciamo per raggiungere due obiettivi uno è quello di velocizzare la vendita ovviamente quindi se io ottengo più velocemente richieste di acquirenti lo vendo prima l'immobile ma l'altro rafforza il concetto e lavora anche nella direzione del proprietario perché il proprietario che magari ti ha tenuto sott'occhio non ti ha ancora contattato però è entrato in contatto con i tuoi contenuti segue la tua pagina e vede che attivamente poi fai promozione sugli incarichi che hai ovviamente quello attira ancora di più la sua attenzione positivamente e quindi lavori diciamo sia per l'acquirente che per il venditore in questo caso numero 7 facebook ads ti aiuta a far crescere la tua mailing list mi sono sgolato su questo canale sul mio blog nella mia newsletter su quanto sia importante avere una lista email ti faccio una breve nel caso non avessi visto mai uno dei miei video ti faccio una breve un breve recap allora il discorso è un po' lungo comunque che cosa ti permette di fare una mailing list ti permette di avere un canale proprietario ti permette di possedere il traffico mentre negli altri casi come le inserzioni facebook ma come qualsiasi altro tipo di inserzioni anche i portali immobiliari tu lì non possiedi il traffico tu lì paghi il traffico e quando smetti di pagare non hai più l'opportunità di ricevere quel traffico mentre quando una persona è nella tua lista email tu li hai nel tuo database tramite un software tu hai la possibilità di comunicare con tutti senza dover pagare ogni volta immagina che vantaggio hai o immagina anche di avere una lista anche di numeri di telefono puoi fare lo stesso discorso solo che la mailing list per molti aspetti è diciamo il canale con cui puoi raggiungere migliori risultati e per dirtene una tu non puoi rompere le scatole ogni giorno via sms o whatsapp ad una persona ma potresti mandargli un'email al giorno risultando meno invasivi quindi quando mandi un messaggino comunque è limitato è costretto non puoi scrivere tutte le cose che potresti scrivere ad esempio all'interno dell'email io a volte scrivo delle email lunghe quanto un articolo quindi l'email sulla lunga è quello che ti permette di veramente costruire un asset fondamentale quindi il discorso è sempre quello se tu non possiedi almeno un media come quello che può essere un emailing list o potrebbe essere anche un blog che ti genera traffico hai un problema perché dipendi sempre da qualcun altro invece avere un asset che è sicuro è stabile che non va da nessuna parte quindi tra dieci anni ancora manderemo l'email ma non sappiamo se tra dieci anni ancora esisterà magari facebook questo questo non lo possiamo dire ma possiamo dire che se da cinquant'anni che l'email esiste fra altri dieci anni probabilmente anche altri venti esisterà sempre se ci fai caso ogni servizio online ogni app a cui ti scrivi che scarichi qual è la cosa di base su cui si basa si basa sull'email ti chiede sempre l'email magari il numero neanche te lo chiedono ma l'email ti viene richiesta per poterti registrare ad una serie di servizi online l'email ti viene sempre chiesta per creare degli account online ti viene sempre chiesta ok quindi è è centrale l'email è centrale qual è diciamo la cosa che ci porta fuori strada no veniamo sempre attirati da nuove cose cose che apparentemente potrebbero essere risolutive nuovo e meglio quindi l'email è vecchia e non funziona più si fa questo ragionamento ma è sbagliato e quando nei miei corsi parlo di mail marketing quindi ho più spazio a disposizione posso descrivere tutti i vantaggi e tutto quello che si può fare la reazione tipica è ammazza non pensavo che l'email marketing fosse ancora utile e fosse così potente ok quindi sicuramente facebook è un ottimo canale per costruire una mailing list e quindi costruire un asset tra le altre cose trovi ti metto in descrizione no te lo metto come scheda lo trovi trovi una scheda un video uno o più video che ho fatto di recente su poi mi prenderò la briga di inserire queste schede mentre sto registrando mi vengono in mente insomma almeno uno sicuramente di video che ho realizzato per in cui parlo proprio di email marketing quindi ricapitolando facebook ottimo strumento per catturare indirizzi email numero 8 aumentare i lettori del proprio blog quindi questo magari è legato anche al precedente punto perché se hai una mailing list puoi mandare un'email ogni volta che qualcuno ogni volta che tu scrivi un nuovo articolo hai subito dei lettori pronti che sono interessati a quello che dici e quindi se mandi un email a quelle persone una parte di quelle persone sicuramente cliccherai velocemente dei lettori subito per il tuo nuovo articolo del blog ma facebook ti permette di fare una cosa ancora più diretta quindi è più laborioso far iscrivere una persona alla tua mailing list è più semplice sicuramente mandare le persone direttamente sull'articolo quindi quando crei un contenuto anche al di fuori di facebook facebook ti torna utile perché ti permette di mandarli traffico anche nel caso del blog è inutile creare dei contenuti se poi questi non vengono consumati se non vengono consumati i letti non impattano nessuno e quindi tu non hai il risultato quindi il blog a che cosa serve serve a da attirare traffico di persone potenzialmente interessate ai tuoi servizi che poi vengono educate attraverso i tuoi contenuti e quindi lavorano sulla percezione del tuo brand e ti mettono in contatto poi con queste persone ma tutto questo non accade se non c'è traffico quindi questo è sempre centrale questo argomento e facebook ti permette di sponsorizzare ad esempio un post che crei sulla tua pagina dove magari crei una breve introduzione del tuo articolo nella breve introduzione dovresti praticamente creare un gancio cioè dare un motivo alle persone di cliccare uscire da facebook e leggere il tuo articolo ok anche perché se fai questo senza investire in ads facebook praticamente farà vedere già lo fa vedere a poche persone quello che scrivi il tuo post ma lo farà vedere a meno persone ancora perché se ci hai fatto caso quando metti un link in uno dei tuoi post sulla tua pagina facebook riduce la visibilità perché lo fa perché non vuole che le persone escano perché se le persone escono da facebook è come se lui facebook perdesse soldi perché più tempo le persone escono su facebook più facebook guadagna soldi e quindi sei costretto se vuoi ottenere traffico sul tuo sito ad usare l'advertising su facebook ok quindi ottimo modo anche per popolare di lettori il tuo blog poi se usi una strategia intelligente che cosa cerchi di fare poi all'interno del tuo blog cerchi attraverso dei pop up attraverso dei stesso dei link all'interno del tuo articolo di catturare il contatto del lettore quindi farti dare la sua email perché poi in quel modo tu non hai più bisogno di acquistare pubblicità per mandare traffico al tuo blog numero 9 ovviamente il discorso che vale per il blog vale anche per il tuo sito web quindi diciamo il male principale dei siti delle agenzie immobiliari ne ho parlato di recente è che non hanno traffico magari sono fatti anche bene ma non hanno traffico quindi è come avere la macchina senza benzina senza benzina non cammina non mi porta a destinazione lo stesso discorso quindi va fatto non mi sto a ripetere va fatto per il sito web quindi tu puoi creare dei anche stesso per la promozione di un annuncio in particolare di un immobile in particolare che puoi fare puoi creare un breve diciamo 3-4 righe che creano interesse e poi sotto ovviamente c'è il link con l'immagine in anteprima dell'annuncio in questione o potresti mandare le persone ad esempio promuovere un post per chi deve vendere casa su un articolo all'interno su una pagina specifica all'interno del tuo sito web quindi ottimo modo per generare traffico verso il tuo blog o il tuo sito web facebook ads ti permette di fare questo motivo numero 10 non te lo dico nel senso che ho volutamente lasciato questo il 10 a te quindi scrivi sicuramente ho dimenticato qualcosa scrivi qual è il motivo che secondo te permette a facebook ads di essere utile per le agenzie immobiliari magari nel tuo caso c'è un qualcosa in particolare che hai scoperto che ti permette di ottenere risultati quindi scrivimelo nei commenti se vuoi qualcuno che ti aiuti attraverso facebook ads a far crescere la tua agenzia immobiliare magari per acquisire nuovi incari magari per promuovere in modo professionale gli immobili che già hai e quindi venderli più velocemente allora ti posso aiutare con il mio team per entrare in contatto con il mio team c'è bisogno di compilare un breve questionario questo questionario come ti ho anticipato prima lo trovi in descrizione quindi c'è un link sia in descrizione sia nel primo commento che ti porta a questo questo form che dovrai compilare richiede 5 minuti e ti permette poi di parlare con un mio consulente commerciale che cercherà di capire qual è la tua situazione e se e come possiamo aiutarti ovviamente se non sei ancora iscritto a questo canale fallo adesso attiva la campanella con tutte le notifiche e se questo video ti è stato utile l'unica cosa che ti chiedo di fare è un mi piace quindi un bel mi piace su questo video e ci diamo un arrivederci al prossimo ciao un saluto da Francesco Bersani grazie a tutti Grazie a tutti.